Salve a tutti, sono Sifu Cristian Baggio insieme a mio collega Sifu Luca Bertoncello. Noi siamo membri attivi della Vinson Academy, organizzata e ideata da Grand Master Paul Tang e dai Sifu Miriam Ponsor. Questa Accademia ha sempre avuto e ha tuttora l'obiettivo di sviluppare corsi inerenti a questa disciplina, che è una disciplina del confronto. Perché è importante? Per semplice motivo che permette a persone che si avvicinano di integrare conoscenze, migliorarsi sia attivamente a livello fisico che mentale. Noi come Accademia sorgiamo lezioni anche in scuole superiori e di varia tipologia. Questo comporta l'educazione, che è una cosa fondamentale in questi tempi, che viene a mancare, basti pensare all'episodio di bullismo e quant'altro. E questo ovviamente comporta anche a non solo educare, ma anche a dare un formamentis, che è utile a questi ragazzi e ragazze di giovane età, di età dei uomini e donne nella vita. Ecco, questo è appunto quello che è VTA, non è solo un'arte marziale, ma è molto di più. Per maggiori informazioni visitate il sito www.vta-i.org o eventualmente visitate la fanpage VTA che è Vinson Academy Italia e lì troverete appunto tutte le informazioni sia sulla scuola, sia su noi come istruttori e soprattutto sul Gran Master Portagno e dai 6 uomini a posa.